per andare agli ordini dello starter. Problemi per Screen City, si è accucciato? Tutto è pronto. Partiti. Screen City allo steccato, Coral Fast di fuori con Magica Wanda e all'esterno Hunter Valley, Coral Fast veloce in vantaggio come schema di fuori Hunter Valley in terza posizione a tiro. Magica Wanda in coda, Screen City. Hunter Valley accompagna Coral Fast che può impostare a piacimento terza posizione in corda per Magica Wanda. Poi Screen City che si riavvicina sulla curva, vediamo se girano. Coral Fast allunga da Hunter Valley che ha nella scia Magica Wanda e in coda all'esterno Screen City con la dirittura che si appresta ad arrivare. Ed ecco che Hunter Valley segue le mosse di Coral Fast, poi Magica Wanda e Screen City con Coral Fast che allunga da Hunter Valley. Si gira Germano a vedere Hunter Valley che è per ora nella sua scia in anticipo lungo su Magica Wanda, poi Screen City con Coral Fast che allunga in corda da Hunter Valley che ci prova in mezzo alla pista Magica Wanda che ci crede. Poi è battuto Screen City, Coral Fast allunga da Hunter Valley e Magica Wanda in tre in lotta. Coral Fast prepara l'ultima difesa da Hunter Valley e da Magica Wanda. Coral Fast arroccato in corda, guadagnano ma non del tutto. Hunter Valley e Magica Wanda. Il palo è lì, Coral Fast, Hunter Valley e Magica Wanda. Un, due, tre. Alla fine Coral Fast risponde ad Hunter Valley e Magica Wanda. Vittoria di Coral Fast, Germano Marcelli, l'uno, due, ravvicinato. Danilo Pierdomenico, incursione da Anguillara. In questo caso doppia vittoria di chi lavora da Anguillara perché anche David Ducci è a distanza proprio accanto nei box di Danilo Pierdomenico. Secondo Hunter Valley che è ben rientrata. Terzo Magica Wanda sullo standard di Milano e non quello dell'ultima. È tutto. Uno, due, quattro. È l'ordine d'arrivo. Un'ordine d'arrivo. Un'ordine d'arrivo. Due, qualche siti inevitabile di Milano e non lo devo aspettare.